Per me è un onore essere qui oggi e poter rappresentare l'amministrazione comunale di Ravenna. È un onore personale e non solo istituzionale perché in questi anni di collaborazione mi avete mostrato una realtà, una storia di questa città che è una storia bellissima e che parla un po' la storia della nostra terra, la vostra generazione, la generazione fondativa di Hauser, la generazione che si è impegnata nella ricostruzione del paese, della nostra terra, che ha trascorso la sua vita nel segno dell'impegno, dell'impegno nel lavoro, dell'impegno politico, dell'impegno nel sindacato, dell'impegno nel volontariato, come un ciclo continuo, come una filosofia di vita che ci fa considerare che non siamo noi da soli, ma che dobbiamo sempre tenere presente gli altri, che siamo parte di una comunità. Questa è la storia di Hauser ed è la storia che ha fatto grande la nostra terra, il nostro territorio. È la storia anche di una generazione che nonostante abbia attraversato delle fasi critiche della nostra città, della nostra regione, del nostro paese, non ha mai perso la capacità di avere una visione, di immaginare il futuro. Questo manca molto alle generazioni di oggi. Siamo schiacciati in un eterno presente. C'è invece una generazione più grande che è passata attraverso problemi grandi, grandi crisi, che continua ad avere la capacità di immaginarsi insieme nel futuro. Io credo che di questo vi vada dato grandissimo atto e sia un grande merito della vostra generazione. Io qui oggi non sono da sola, perché la collaborazione con Hauser non la raccolgo solo io. Qui ci sono amministratori di questo comune. Io ho visto Giovanna Piaia, che è stata assessora del comune di Ravenna, che è là appunto. C'è Fiorenza Campidelli che siede in Consiglio Comunale, c'è Mirko Bagnari per la Regione Emilia-Romagna, del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. È un'attenzione che le istituzioni hanno sempre rappresentato verso questa associazione, perché il rapporto che ci lega è un rapporto forte e duraturo, che è forte oggi ma che sarà forte anche domani. E chiudo dicendo che il fatto che ancora oggi inaugurando questo spazio, questa casa, pensiamo nuovamente al futuro, siete ancora quella generazione capace di immaginare un futuro di comunità, lo dimostra il fatto che non c'è solo Hauser, c'è Ampi, ci sono altre associazioni di volontariato, ci sono centri sociali, ci sono tanti cittadini che a titolo volontario scelgono di utilizzare il proprio tempo per gli altri, per se stessi e per gli altri, in una logica appunto di pace, di condivisione, di solidarietà e di vita migliore per tutti. Per questa ragione l'apertura di questo spazio oggi è un'apertura che viene restituita e donata alla città, per il lavoro prezioso che svolgiamo ogni giorno e per la grande apertura che abbiamo nei confronti della nostra Ravenna. Lunga vita a Hauser e grazie davvero. Grazie a tutti.